buongiorno a tutti benvenuti sul mio canale di ciro casolaro dedicato a tex wheeler in questa uscita di tex anastatica striscia numero 20 c'è questa particolarità che il titolo la banda di kid billy se apriamo e andiamo a vedere kid billy è scritto in un modo dove all'interno c'è una penna che va a ripetere le varie lettere questa è una cosa che abbiamo notato abbiamo letto attraverso vintage comic forum è stato il primo a indicare a indicare questa questa cosa e io adesso voglio farvi vedere in realtà il vero originale a questo punto e lo andiamo a a prendere dal numero 1 contro 20 vedete la banda di kid billy scritta in modo senza all'interno con la biro sono cose che la sergio bonelli dovrebbe rivedere visto che ci stanno vendendo le strisce i tex come erano originali dell'epoca non ci possono essere strafalcioni di questo tipo ok appuntamento alla prossima striscia ciao